Alexa, come si dice in tedesco il gatto è nel carbone? Il gatto è nel carbone. In tedesco si dice... Ma come ti cazzo in the cooler? Ma il tedesco è una lingua meravigliosa. Come si dice in francese la bocca d'Ercole? La bocca d'Ercole. In francese si dice... Cioè in qualche modo c'entra sempre il culo. Adoro sempre di più Alexa comunque. Sto scoprendo delle cose meravigliose. Ciao a tutti ragazzuoli! Io sono Fancy. Alexa, come si dice in tedesco il gatto è nel carbone? Il gatto è nel carbone. In tedesco si dice... Di cazzo in the cooler. Sappiate che non avrei dovuto scoprire questa cosa. Ora glielo chiederò almeno una volta al giorno. Ve lo giuro. Ma tra lasciando le traduzioni quelle belle, già in passato ho fatto episodi di questo tipo. Di cosa sto parlando? E poi lo avrete già letto dal titolo e visto dalla copertina. Per cui tutto questo mistero non serve a un cazzo. Gary! Però comunque è bello avere questa sorta di mistero. Perché oggi siamo tornati su un nuovo episodio. Delle persone che riescono a costruire cose incredibili nella foresta utilizzando soltanto dei bastoncini di legno. Madonna che titolo lungo. Avete presente no? Quelli che scavano 87 giorni. Però ragazzi lo sapete. Prima di cominciare vado a salutare Luca Zanzottera, Lisa Ciccotti, Nicole Nicole e Paolo Anzani. Ciao ragazzi. Il vincitore di oggi... Nicole Nicole. Grandissima. Raga mi raccomando se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. Bene ragazzi direi di iniziare subito. Così da andare a distruggere ancora di più la mia autostima. Perfetto ragazzi. Ed eccoci qua. La prima cosa da fare prima di iniziare a costruire è prendere a bastonate un cespuglio. E camminare completamente a caso. Cioè queste sono le basi eh. Se non si fanno queste cose eh. Poi dopo aver fatto questo bisogna trovare il terreno giusto. E una volta trovato si può iniziare a scavare. Con dei bastoni di legno. Perché sì ragazzi. Questi due fanno delle cose impressionanti con soltanto l'utilizzo di questo bastoncini. Ma che cosa è successo? In un attimo. Ok. Soltanto con questi due bastoni che comunque non mi sembrano poi così resistenti. Sembra che si stiano per spezzare da un momento all'altro. Eppure loro ce la fanno raga. Con quale forza nelle braccia. Dei mostri. Dei robot. E butta via. Sì. Che cosa è successo in un attimo. Vabbè sono scesi al centro della terra già. Ragazzi comunque secondo me vengono aiutati perché non è possibile. Con dei bastoncini di legno. Poi non si rompono. Sono fatti. Diamante. E vanno avanti così. Interi giorni saranno già scesi di otto metri. Ok. E guai che buca. Ma neanche con le ruspe. Ma cosa? Eppure loro ce la fanno. È la scena più bella che potessi vedere ve lo giuro. Cioè però scusate. Riuscite a creare dei crateri immensi. Con dei bastoncini di legno. Però non ci arrivate che se scendete troppo. Poi non riuscite più a uscire. Si fa aiutare l'amico. Vabbè così ok. Però lui adesso come esce? Niente. Se ne sbatte. Ah ok. È tornato. Con solo un filo. Mi sa che non riesce a tirarlo su eh. Ah neanche. C'è proprio della serie Tuscava che io me ne sbatto tantissimo. Niente. Stavo scherzando. In qualche modo è riuscito ad uscire. Non si sa come. Però. A noi che ce frega. L'importante è che i lavori comunque stiano procedendo. Intanto attorno alla buca. Stanno continuando a creare cose. Va bene ragazzi. Secondo me comunque ci sono. Dei barchi tempo spazio temporali immensi della serie che passano 15 giorni. Intanto c'è il cameraman sotto sommerso dalle macerie. Ah aspetta però. Hanno fatto un upgrade. Non c'è soltanto più il bastoncino di legno ma anche una lama di ferro. Mi sa che hanno capito che forse gli conviene. Che forse con solo il bastoncino di legno è un po' lunga la cosa eh. Stanno creando lo scivolo che poi servirà poi a scendere nella piscina. C'è uno che sta facendo lo scivolo. L'altro che sta facendo gli scalini. Eh però mettetevi d'accordo. Sono curioso di vedere com'è che funziona sta piscina. C'è un po' si scende. Un po' si scendono gli scalini. Com'è che funziona. Vabbè. Lo scopriremo a breve penso no. Comunque sta già venendo qualcosa di epico eh. Le cane di bambù. Ragazzi. Questi sono gli oggetti. C'è proprio più utili. Di sempre. C'è con queste riescono a fare qualsiasi cosa. Cucinare. Dormire. Portare l'acqua all'interno della piscina. Però mi sa. Che non stanno facendo niente delle cose che ho detto. Forse sì però. Potrebbe essere un letto questo qui. O no. Mi sa di no. No vabbè non ci posso che. Non è veramente quello che pesa. No vabbè ragazzi sono dei geni questi due. Hanno creato un'impalcatura. Per poter arrivare più in alto. Con le cane di bambù. Oh vabbè stai calmo. Occhiati al video sarà un pochino velocizzato. Però sono delle macchine da guerra sti due. E dategli una camomilla. Sì vabbè. Sono già entrati dentro. Ragazzi sti due comunque. Cioè potrebbero andare avanti così delle ore. Senza sosta eh. Intanto il cameraman che viene sommerso di nuovo dalle macerie. Non so come sia ancora vivo. Sarà contentissimo di fare questo lavoro. Intanto qua hanno finito. Ah ma era questo il letto. Hanno già finito di riposarsi eh. Ma a loro basta poco. Lavorano 11 giorni. Si riposano 15 secondi. Loro sono a posto. Ok. Perché a loro non basta mica scavare raga. Ecco. Devono fare anche tutte le incisioni per rendere il tutto più bello. Ma io neanche. Se mi aiutassero 15 persone. Con quelle precisioni. Con dei bastoncini di legno. Non è possibile. Ma mi spiegate questi due. Dove hanno studiato. Cosa. Ma non puoi fare queste cose. Con un bastoncino di legno. Senza un minimo di aiuto. Qualcosa. Ma che roba. Cioè più bella di casa mia si può dire. Ma non si può fare questa cosa. Dai. Ecco. Hanno capito che forse gli conviene creare delle scale. Che potrebbero essere utili. Ovviamente fatte con le cani di bambù. Che come vi dicevo. Le cose più utili di sempre. Un pochino storta. Non so quanto vi possa reggere. Però meglio di niente. Addirittura due ne hanno fatte. E vabbè. Ragazzi. Non è che regge due pesi. Questa una volta che sali e scendi. Si spacca. Per forza. Che ne crei due. Va bene. Quindi avrà anche due entrate. Una spa. Avete presente no? Forse anche più figa. Cioè va che roba. Manca solo che facciano l'idromassaggio. E poi. Ho visto tutto. Cos'è. Ah. Ah. Ovviamente per far sì che l'acqua rimanga. Non può esserci la terra. Perché altrimenti. Viene assorbita. Questa cosa l'ho detta anche l'altra volta. Effettivamente ha rotto il caldo. Quindi utilizzano questa specie di argilla. Ovviamente messa con le mani. Ma non mi stupisce la cosa. Cos'era quel suono? Scusate. A quanto pare si chiamano abbagliando. Sarà un loro modo. Oppure si chiama proprio così. Quindi. Si continua. A spalmare. Saranno passati 15 giorni come minimo. Tutto a man... Sì. Vabbè. Quanto tempo. Con le mani tra l'altro. E poi. Vai a prendere l'acqua. Crea questa specie di argilla. Quindi con la terra. Portala indietro. Anni. Eppure loro riescono a farlo. Senza problemi. Eh. Certo. Hanno fatto anche lo scivolo. Giusto. E che fai? Non ti metti pure a dipingere. E se non sbaglio. Utilizzano. Una specie di frutto. Che dà questo colorante. Come se non fosse già. Una cosa lunga da fare. Una piscina così. Ha creato queste specie di mattonelle. Tra l'altro. C'è già acqua. Cioè. Non oso immaginare. Da quanto tempo siano lì. La leggenda narra. Che abbiano iniziato. 26 mesi fa. Ma ancora loro. Non demordono. E niente. Continua a dipingere pure sulla terra. Ha preso il vizio. Cioè. Ma basta. È figa così. Quanto. Ah. Per fare tutti i contorni. No ragazzi. Penso che io non ci riuscirei. Neanche se mi dessero una mano. 48 persone. E avessi anche una ruspa a disposizione. No. E che fai? Non gliela metti anche la juola attorno? Che poi tutta terra è brutta. Metti che hai ospiti. Non è carino. Dai. Andiamo a dipingere. Vai. Dove è uscito il rosso? Scusate. Cioè. Anche il colorante rosso hanno trovato. Ok. Che fa adesso? Ah. Ovviamente la devi riempire la piscina. E come fai? Se non con il laghetto che ha l'acqua leggermente lenta. E mi sa che riempirla così è un po' lunga eh. Però. Amico mio. Mi sa che ci vuole un pochino. Ma loro ce la faranno eh. Tranquilli ragazzi. E così mi sa che ci vuole tanto tempo. Un pochino meglio. Però mi sa che non è proprio il massimo ecco. Intanto però la lasciano lì. Si sta qua un mesetto e mezzo. E vedrete che si riempie piano piano eh. Molto lentamente. Però intanto comunque devo dire che l'acqua arriva eh. E' una cascata che si sta formando. Ecco. Cosa c'entrava questo animale di cui non conosco il nome mai nella vita? Ce non capisco. Eccola. Pronti. Tutta quanta bella piena. Perché l'acqua adesso è più forte? Che è successo? Che stanno portando? I bicchieri. Vabbè giustamente. Che fai? Inviti gli amici. E non gli offri da bere un po' di fanta. E li metti lì. A posto. Quanto tempo ci ha voluto riempire tutta sta piscina? Non è possibile. Ok. Ha finito di fare il letto. Giusto. Un po' di riposo. E' pronta? Ci siamo? No. A quanto pare è proprio la loro voce. Non è che perché il video è velocizzato. Cioè parlano proprio così. Ma che mai sono contenti? Dei bambini? Oh. Un bel bagno. Dopo che lavorano da 36 anni. E' giusto lavarsi un po' adesso. L'acqua bella pulita. Cristallina. E questo video per dire che cosa? Che è possibile costruire piscine nelle foreste con dei bastoni di lenga. Va bene ragazzi. Io direi di concludere qua. Ogni volta che vedo questi video la mia autostima scende tanto. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi di questi due ragazzi. Se secondo voi sono umani oppure dei robot. Comunque se il video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social. Instagram, Facebook e quindi se vi va. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace. Alla pagina di Facebook. Iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi dell'appuntamento. Ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.